È stato un periodo di stop molto lungo, per questo ora è importante tornare di nuovo a correre. Personalmente è molto importante poter tornare sul sedile di guida, ogni chilometro che facciamo ci sta dando qualcosa di nuovo, come potete immaginare per noi è qualcosa di cruciale. Naturalmente dovremo essere pronti per questo nuovo inizio, ogni punto conquistato sarà importante per il mondiale e qui ho lo stesso obiettivo, tornare a sentire le sensazioni giuste, spero di farlo in questo weekend di Alba.